Il divieto di sosta sul lato sinistro agevola la circolazione delle auto in corso Vittoria Emanuele, dove sono iniziati sul lato destro i lavori di sostituzione delle vasole danneggiate in prossimità di un attraversamento pedonale, un intervento che rientrerebbe nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano anno 2022. È stato infatti istituito con apposita ordinanza il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Vittoria Emanuele, dal civico 73 all'89. Noi stiamo attuando una richiesta che è stata fatta dalla Direzione Seconda Lavori Pubblici che per garantire il ripristino della sede stradale di Corso Vittoria Emanuele all'altezza di Piazza Garibaldi necessita un intervento per liberare le auto che normalmente sono in sosta in quel tratto di strada, perché c'è dell'esigenza di ripristinare la sede con il basalto, perché alcune pietre laviche non sono più ancorate stabilmente al suolo. Quindi per qualche giorno abbiamo disposto il divieto di sosta di quell'area, il transito comunque è garantito, la strada non è completamente chiusa, per il tempo necessario sia all'intervento prima e poi anche per la stagionatura dell'intervento che sarà effettuato. Il divieto sarà valido per una decina di giorni sino alla fine dei lavori, a partire dal 19 gennaio. La stima della durata dei lavori è questa, però chiaramente tempo permettendo, perché se le condizioni meteo cambiano, come le previsioni preannunciano, è probabile che dureranno qualche giorno in più rispetto a quanto indicato, però noi ci auguriamo che nel giro di, ripeto, sette giorni tutto possa definirsi.